Un'attività di avvocato sta cambiando inevitabilmente, ce ne accorgiamo le tecnologie hanno rivoluzionato il lavoro, i servizi che un tempo richiedevano giorni ora si concretizzano in pochi minuti. Anche i clienti sono cambiati e si rivolgono al professionista avendo già acquisito informazioni, così si aspettano soluzioni magari anche in tempi brevi se possibile e con costi contenuti. L'avvocato del futuro lavora in team, la società tra avvocati rappresentano uno dei nuovi strumenti che il legislatore ha messo a disposizione degli stessi legali per adattarsi al cambiamento. Di questo lavoro di team, di questo esercizio in forma associata per i legali, fiorentini in particolare, italiani in generale, ne vogliamo parlare con l'avvocato Cassi e Gian Piero Cassi del Foro di Firenze. Ben ritrovato avvocato. Buonasera, grazie di avermi invitato e quindi... Il problema è proprio questo, nuova forma di lavoro o meglio l'esercizio in forma associata, team di avvocati. Sì, in realtà la professione di avvocato sarebbe per definizione una professione individuale perché è una prestazione d'opera intellettuale che normalmente viene svolta individualmente. Però è chiaro che con i tempi attuali, con le specializzazioni sempre più intense, col fatto che uno non può coprire più tutte le materie, perché io quando ho cominciato c'era avvocati che facevano penale, civile, amministrativo, ma oggi come oggi non sarebbe possibile perché le norme sono tali e tante che tutto lo scibile non può essere coperto. Quindi se uno studio vuole offrire una consulenza, un'assistenza a tutto campo, chiaramente ci devono essere vari tipi di professionalità nell'ambito della professione forense in modo da coprire tutte le varie materie. E questo è uno dei motivi per i quali ora si ricorre sempre più a studi associati o a società di avvocati. Altro motivo è anche quello della suddivisione delle spese, perché oggi i costi anche per essere aggiornati, pensiamo alle riviste informatiche che hanno un costo, tutti i nuovi sistemi che devono essere utilizzati e chiaramente in intime queste spese vengono suddivise e quindi anche questo è uno dei motivi per i quali si ricorre alle associazioni o alle società di avvocati. Quindi ecco, da quanto mi sembra di capire, è una cosa che riguarda in modo particolare i giovani o non esclusivamente? No, non riguarda esclusivamente i giovani perché ci sono delle grandi studi, delle grandi associazioni di avvocati che hanno una certa esperienza e anche una certa età. Quindi diciamo può avvenire sia a livello di giovani sia a livello di avvocati più esperti. Ecco, Avvocato Cassi, com'è disciplinata la società tra avvocati? Allora, qui si parte, come sempre in Italia la normativa lascia spesso a desiderare. Voi dovete pensare che la legge che regolava le associazioni tra avvocati fino al 2001 era una legge del 39 che tra l'altro non fu emanata per regolare proprio le associazioni ma era fatta per evitare che gli avvocati ebrei potessero esercitare la professione dietro il paravento di un'associazione di altri avvocati. Era una legge che fu emanata dopo le leggi razziali e quindi era diretta a sanzionare gli avvocati ebrei. Questa legge, che avrebbe dovuto cessare nel 44, al massimo nel 45, è rimasta. Certamente non più con quella finalità, però rimane il fatto che noi eravamo regolati da una legge di due articoli, anche abbastanza poco comprensibili, perché il legislatore non si era mai posto questo tipo di problema. Solo nel 2001 è stata emanata una legge organica sulla società di avvocati in modo tale da regolamentare meglio questo tipo di forma associativa, che però prevedeva che potessero partecipare alla società soltanto avvocati. Poi nel 2006 entrò in vigore una legge che non era sugli avvocati, ma era in generale sulle professioni, che prevedeva le società interdisciplinari. Questo è stato anche poi recepito dalla riforma della professione forense, la legge 247 del 2012, che prevedeva che potessero esserci società anche interdisciplinari, però in quel caso non veniva consentito la partecipazione di soggetti non iscritti ad albi regolamentati, quindi non era ammesso il socio di capitale. Invece poi nel 2017, con una modifica alla legge professionale, è stata inserita una nuova disciplina, che va quasi ad aggiungersi a quelle precedenti, per cui uno a questo punto ha la scelta su come regolamentarsi se vuole svolgere la professione in forma associativa e in questa nuova disciplina, quella attualmente vigente, è possibile la partecipazione di soci non professionisti e quindi dei cosiddetti soci di capitale, ma non devono avere più di un terzo del capitale e non possono essere coloro che gestiscono la società. Ecco, senta Avvocato, ora io con alcuni dati cerco di scattare una fotografia, non so francamente se questa fotografia si possa stagliare per la realtà fiorentina o invece per la realtà di metropoli. Io intanto passo a leggerle i dati. Il reddito medio degli avvocati italiani dal 1996 al 2016 è calato del 30% ed oggi è di poco più di 38.437 euro, centesimo più centesimo meno euro più euro meno. Di contro il volume di affari generato dagli avvocati si è triplicato fino a raggiungere la soglia dei 13 miliardi di euro. Tali dati, che sembrano antitetici, si spiegano a luce del fatto che chi lavora in studi strutturati ha registrato un aumento della produttività del 35% e un aumento del reddito del 25%. Questa è una realtà soltanto delle metropoli o anche fiorentina? Riterrei che è più una realtà milanese, romana o comunque di studi che a Firenze non ci sono. Ripeto, a Firenze c'è delle grosse società di avvocati e associazioni ma non di numero estesissimo. Invece a Milano e a Roma ci sono società che hanno 300 avvocati e quindi siamo in una dimensione completamente diversa. E quindi è chiaro che questo dato in aumento del volume di affari secondo me riguarda loro perché i miei dati sul volume di affari degli avvocati individuali invece anche quello si è ridotto rispetto a dieci anni fa. Come si è ridotto il reddito si è ridotto anche il volume di affari. Quindi diciamo che questo è un dato che riguarda una realtà abbastanza poi che riguarda non tanti avvocati perché anche se sono società che hanno tanti avvocati, 300 ma rispetto ai 243 mila avvocati italiani restano comunque una discreta minoranza. Senta Avvocato, quali gli eventuali problemi per quanto riguarda un esercizio in forma associata? Allora io ne voglio sottolineare due perché sono quelli su cui sicuramente nei prossimi anni si discuterà. Il primo è se la nuova società così come dalineata nel 2017 è soggetta o meno al fallimento. Fino a ora tutte le norme che prevedevano le società di avvocati e di professionisti escludevano espressamente che queste società anche se costituite in forma di SNC o SRL potessero essere assoggettate al fallimento perché si riteneva comunque prevalente l'aspetto della professione rispetto alla finalità commerciale. Però il problema è che l'ultima normativa sugli avvocati non esprime espressamente questo divieto a differenza di quello che succedeva nelle norme precedenti. C'è stata una sentenza del Tribunale di Forlì in realtà in relazione ai commercialisti che ha escluso che potessero fallire. Però rimane il fatto che non essendoci una norma che lo viete espressamente e che queste società possono assumere la forma dell'SNC, dell'SRL o dell'SPA che sono soggette al fallimento, questo sicuramente sarà per me una materia su cui si discuterà a lungo nei prossimi anni. E l'altro problema è quello fiscale perché sempre fino a ora la regola era che i professionisti rispondono con il criterio di cassa. Cioè io le imposte le pago su quello che è in casso durante l'anno. E questo veniva anche espresso nelle normative che disciplinavano le società di avvocati e anche nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate. L'ultima legge non prevede espressamente il criterio di cassa e l'Agenzia delle Entrate ha fatto una risoluzione nel 2018 in cui ha sostenuto che poiché comunque sono società queste regolate dall'ultima legge nella forma dell'SNC, dell'SRL e dell'SPA che sono società chiaramente commerciali, allora si deve applicare il criterio di competenza. Il che è davvero un problema perché a questo punto io vo' a pagare non su quello che ho incassato ma su quelli che sono i miei crediti. Quindi anche questa è una questione non da poco. Assolutamente, fiscalmente parlando ovviamente. Di società di avvocati, tra avvocati abbiamo parlato, l'abbiamo fatto con l'avvocato Giampiero Cassi del Foro di Firenze. Grazie di nuovo Avvocato. Grazie a voi, buonasera.